e bella ragazzi io sono salvatore il suino americano e ragazzi oggi siamo su di nuovo su fifa 18 e oggi vi voglio portare il viaggio il viaggio della demo dura solo c'è dura solo un episodio lo faccio solo per un episodio e dopo già finisce per la demo dopo come gioco completo c'è il viaggio e dura di più dalla demo ok l'avvio allora ti stai lavorando su questo? una grande giornata di morgeno ti prendi qualcosa di da niente e non si finisce Michael ho ho una notizia per te, sunshine Jim, Catherine Michael, ti sono in tempo per la cena, prendi una copia non lo so, non lo so cosa succede? La primavera potrebbe essere meglio, eh? Beh, sembra che alcune persone pensano che un cambiamento di scena potrebbe portare il meglio di te. Quindi, cosa? Beh, ho fatto un po' molto interessante con i repi di alcuni di europei top club. Bayern, PSG, Atletico. Oh, e ho fatto un po' con una gente rappresentando, wait for it, non è altro che... Los Blancos. Chiamate. We are Madrid? The very same. Se sembra che hai fatto un po' impressione in gli USA, eh? Beh, sono i giorni precedenti, ma vorrei parlare di te portare prima la scena di trasferire. Questo è così grande, Alex. Più più stagioni, più gioco, più contratti. Non mi ha fatto? Come, you know, these were my childhood idols growing up. Raul, Roberto Carlos, Zidane, come on! Looks nailed from what the agent was telling me. È un honno, certo. But you're only 18, Alex. You know, it's a dream move, I understand that. But the pressure, you think about it, you're gonna be down there on your own. And with their squad, you probably won't even be a starter. So, there's gonna be lots of other chances in your career right now. This is a risky move. And your fans, they're not gonna forget. Not for something like this. I know, Grandad. But this could be my one shot. Look what happened to Dad. Oi. Do not think like that. You are not Harold. Look, I know it's a lot to take in. But we gotta move faster. Otherwise, they might consider moving elsewhere. Well, if he's got Michael's approval and it's what you really want, then... What does your heart tell you? It's been my dream since I was a child, Mom. How can I say no? Okay, deal's gonna take a few days to iron out. But in the meantime, I need you to find an extra gear for the first few games of the season, yeah? Could work and no on the transfer fee. Real Madrid! Eh, ragazzi, lui va alla Real Madrid, attenzione. Diego Costa. Ehm, allora... ok proseguo questa è la possibilità di venire ragazzi non sto lasciando così è il spirito ragazzi no 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 non no 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 ma ma s però il ha ma scusa a me adesso non mi importa va adesso se io vi fallo minchia non mi interessa nooo rigore no vabbè raga è colpa mia minchia devo farlo nooo ma come si buttava vabbè raga non sapevo come si buttava minchia hanno segnato allora vieni con con la squadra no no da solo faccio male dopo faccio schifo lo so non avete già detto no vabbè a fuori era fuori gioco ma no vabbè ma loro me la rubano in un in un modo troppo facile no raga ma perdiamo 3 a 0 vabbè oh ma sei a zero ma stiamo scherzando vabbè questa partita è stra persa impossibile adesso non ci manchia ma lo aspetta adesso mi dovete spiegare come cazzo fa a rubarmi la palla in questo in questo modo facile minchia io adesso corro vabbè ragazzi questa partita è stra persa ok ok sta vai vai corri il più possibile no vabbè peccato no vabbè peccato c'è forse ce la potevo riuscire no no madonna mi salva solo il fuori gioco ma aspetta allora mi dovete spiegare aspetta minchia io guardo i comandi basta non si vede che bello vabbè ma io non ce me lo rubano in un modo troppo fa no vieni questo era fallo eh c'è non potevo non dire che non era fallo allora e così si andiamo avanti andiamo avanti no minchi se non c'era lui era perfetto ehi partita è finita vabbè ragazzi hanno vinto tutto tutto male va bene va bene va bene va bene cos'è? cos'è? nooo nooo Alex Ah ragazzi Questa era il viaggio Solo la prima parte Che hanno messo Nella demo Io spero che questo video vi è piaciuto Lasciate un like Se vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale Anche agli altri Iscrivetevi a Mettitube Ipro2 Supercabri09 Iscrivetevi Ai canali Lasciate un like E alla prossima Ciao 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 Ciao